Io innanzitutto non sono candidato, quindi non c'è... ringrazio chi fa un appello alla mia candidatura e chiaramente ci saranno pure giorni in cui mi candiderò, perché facendo politica questo potrà accadere. Adesso quello che è importante è aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che però si riconoscono in valori comuni. Quindi il primo dicembre credo che sarà un giorno in cui si incontreranno esperienze di lotte sui territori del nostro paese, esperienze credibili, esperienze di militanza politica, associazioni, comitati, reti civiche, amministratori, sindaci, per vedere se ci sono le condizioni dal 2 dicembre per mettere insieme un metodo per rafforzare il progetto politico che è quello di un campo largo, una coalizione civica vasta e se questo accadrà, poi è chiaro che una delle prime domande che non solo voi ci farete, ma anche noi ci faremo guardandoci negli occhi è se ci sono le condizioni insieme, uniti, per fare una lista elettorale per l'europeo. Quindi il primo dicembre non arriverà un colpa d'effetto da parte sua, un annuncio? Bene, il primo dicembre vediamo.